Necropoli. Il villaggio di Nagada a nord di Karnak in Egitto ha restituito più di 3.000 tombe la cui collocazione cronologica si estende per alcuni secoli nel periodo predinastico che preparò l'avvento della prima dinastia storica. Flanders Petri, che scoprì nel secolo scorso la Necropoli di Nagada, divise il periodo nagadiano in 80 sottoperiodi, secondo una scala cronologica fondata sull'osservazione del vase lame trovato in 900 tombe. Che fine ha fatto il villaggio di Nagada? Commento. È ancora vivente nell'eterno presente, come tutto ciò che è accaduto, che accade e che accadrà.